... Vinile guida sempre Lorena Rusamento, Oliver Thiem, 13.460 la proiezione, Marco Tiozzo, 6 minuti, 15.700, 6 minuti a cambio, ricordiamo a squadre, guida l'azzurra Tommy Sport squadra A, 65 chilometri e 600, con un buon margine superiore a Chai, Kai Saronno, vanno a conciatura con l'uomo e l'uroatletica 2002 squadra A, con l'esportiva Sanus e Oliver Thiem, femminile. ... 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 curate lo sforzo e spugnatevi. Grazie a tutti. In questo momento si può effettuare il cambio, cambio, dai D'Ambo, qual è? Il protagonista nella quinta ora è un bravo, brave e il protagonista nella quarta ora, si arrivano. Vai, 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 14 cambio, 40, 22, 29, 10 cambio, pronti? Seguite il vostro compagno. Ale, si va per l'ora, buona quinta ora, forza ragazzi! Cambio tra i prianzoni di Semeso, dai, dai, forza! E poi Carlin Costruzioni, e poi Anaget, forza! E poi Ferioli, Ferioli Acciai che mi sa ha calato l'asso in questa frazione. e cercherà di recuperare Ferioli Acciai rispetto all'Azzurra Tommi Sport squadra A. Arrivate le avisine, forza! Buona quinta ora, buona quinta ora, dai, mi raccomando fate il flippo e sostenete tutti i vostri compagni e compagni di squadra. Arriva il 17, 46, 1, vai con il cambio! Ha cambiato il 18, ha cambiato il sacco runners, ha cambiato... Anaget il masorezzo, proviamo il 37, ha cambiato la concettura donna e ha cambiato... I cambi sono stati fatti tutti! Fronciapan... Vi ricordo che questo pomeriggio non dovrete sopportare tantissimo la mia voce, ma avrete con voi la simpatia di Raffaella, che poco fa ha corso la sua ora, e del comasco Davide. Quindi Davide e Raffaella, nel pomeriggio ci terranno compagnia, pomeriggio e sera. Partecipano a questa quinta ora, dalle 14 alle 15, Francesca Mantegrazza, Carmelo Licata, Ersilia Volontè, Dario Sormani, El Mostafa Rachi, Stefano Scolari, Fausto Mandelli, Lide Scarobbio, Luigi Pagani, Simona Orlandi, Damide Mangano, Claudio Serapita, Alberto Pianda, Saturnino Palombo, Giovanni Pagani, Andrea Vago, Sabrina Uneta, Ivan Mularoni, Barbara Meimero, Stefano Buttarelli, Alessandro Lodolo, Marco Antonini, Francesco Dies, Bernardo Draghetti, Gianmarco Martignoni, Giuseppe Candita, Diego Ortolina, Paolo Tinelli, Matteo Brianza, Stefano Mignati, Stefano Balluro, e poi partecipano Bruno Guidetti, Roberto Dell'Orto, Lorenzo Colli, Giuseppe Roccasalvo, Valerio Camesacca, Marco Lubian, Luca Viola, Erika Puricelli, Francesco Burrasso, Moreno Giulianelli, Roberto Ferrari, Arianna Borghi, Roberto Annucci, Fabio Rebellato, Lucia Orlando, Stefania Pavan, Loris Rosato, e cinquantesimo come citazione, Francesco Licata. Buona ora a tutti, quinta ora di gara! Grazie a tutti, quinta ora di gara! attrazione a Giancarlo Amis, Ettore è tasseprunto, Ettore comparelli è tasseprunto il parkour, sì, Ettore comparelli del road che è una figura, vedete, vestito di Giavo Camarino, sembra Titti, Ettore comparelli è una delle bandiere del road che leggete spesso su podisti.net farà un'ora tutta in dialetto, Presidente, Ettore parla in milanese, mi raccomandi, pochi minuti invitiamo a sostenere nella fase più difficile il finale di ora, tutti i partecipanti alla quinta ora, intanto qua vedo la babba sapiente di Abdelà di Piar che è pronto per la squadra di Ferroni Acciai, dai ragazzi che si va a finire, tre minuti e mezzo, ecco vi ricordo quando mancherà un minuto allo scoccare del cambio vi farò avanzare in pista e quando mancheranno circa 30 secondi io dirò cambio e voi aspetterete qui il vostro compagno arrivare con il tocco di mano e si parte, non andate in contro però, eh? ecco, ci sono state diverse versioni del cambio, qualcuno voleva dare una pedata nel sedere, qualcuno voleva dare uno spintone, qualcuno una palpatina, no? solo il tocco sulla spalla, mi raccomando, eh? come vi ha detto il Presidente, mi raccomando, mi raccomando ragazzi in bocca al lupo, sesta ora tra poco, consigliamo il cappellino perché l'ora è molto calda, cappellino, cremina sotto le ascelle in mezzo alle gambe per non avere abrasioni e bere molto, eh? ma non il Brunello, il Baroro, il Barbaresco, il Barbero, i Chianti, no? bere molto, soli, acqua, acqua e quant'altro. l'integratori. stanno andando a fare la molla in maraton, sono cinque ore. due minuti, due minuti al cambio, forza, intanto complimenti a tutti gli atleti che stanno correndo questa quinta ora, bella madura, bravi, dai che manca poco, 1.45 adesso, forza, è l'ultimo giro per molti di voi, dai, davanti è Mustafa, e Mustafa, seguito da Saturnino El Palungo. El Mustafa ha fatto 16 chilometri e 4 e quindi può ancora fare una misura, una prestazione vicina ai 17 chilometri. a presto. Attenzione, è ora possibile cambiare, cambio, cambio, attenzione, tocco di mano e partite, tocco di mano al nostro compagno e via! Per ioli Acciai si è giudicata questa quinta ora, ok! Al cambio Saturnino, a lei è forza, bravo! Dai campioni, forza! Al cambio quanto fa la signora Ersilia Volontè, che qua ha visto cambiare, Fligorgas tecnica e poi al cambio con l'elanore Caesaronno. Eccolo qua, è partito molto bene, fortissimo la ratonetta, la nuova sapiente! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti.